Percorrendo la strada che passa per Anfipoli e Apollonia, giunseva a Tessalonica, dove i giudei avevano una sinagoga. Secondo il suo solito, Paolo si recò presso di loro e per tre sabati discusse con loro, a partire dalle scritture, mostrando e sostenendo che il Cristo doveva patire e risorgere da morte e che quel Gesù che io vi annuncio, questo è il Cristo. Alcuni di loro si lasciarono convincere. E aderirono a Paolo e a Sila, come pure un buon numero di greci timorati di Dio e non poche donne tra le più in vista. Ma i giudei, mossi da invidia, fecero leva su alcuni facinorosi di piazza e provocarono un tumulto nella città. Si presentarono alla casa di Giasone e lì cercavano per tradurli davanti all'assemblea popolare. Non trovandoli, trascinarono Giasone e alcuni fratelli davanti ai politarchi, gridando, quelli che hanno messo a suo quadro tutta la terra, eccoli ora anche qua, e Giasone li accoglie a casa sua. Tutti costoro agiscono contro le leggi di Cesare, dicendo che c'è un altro re, Gesù. Con tali clamori eccitarono la folla e i politarchi. Essi si fecero dare la cauzione da Giasone e dagli altri e li rilasciarono. In gran fretta, la notte stessa, i fratelli fecero partire Paolo e Sila per Berea. Costoro, appena vi giunsero, si recarono nella sinagoga dei giudei. Questi erano più aperti di quelli di Tessalonica e accolsero la parola con ottime disposizioni. Ogni giorno interrogavano le scritture per vedere se le cose stessero veramente così. Molti di loro credettero, e non pochi anche tra i greci, donne di elevata condizione e un certo numero di uomini. Quando i giudei di Tessalonica vennero a sapere che anche in Berea era stata annunciata da Paolo la parola di Dio, vennero anche là per eccitare e sommuovere le folle. Subito allora i fratelli fecero partire Paolo in direzione del mare. Sila e Timoteo invece rimasero. Quelli che conducevano Paolo lo scortarono fino ad Atene. Poi se ne ritornarono, con l'ordine per Sila e Timoteo di raggiungerlo al più presto. Mentre Paolo li aspettava in Atene, il suo animo si infiammava di sdegno, vedendo come la città era piena di idoli. Intanto discuteva nella sinagoga con i giudei e con i timorati di Dio e anche nel mercato a ogni ora del giorno con quelli che vi capitavano. Anche alcuni dei filosofi epicurei e stoici si misero a parlare con lui e alcuni dicevano che cosa intende dire questo seminatore di chiacchiere. Altri poi, sentendo che predicava Gesù e la risurrezione, dicevano sembra essere un predicatore di divinità straniere. Così lo presero e lo portarono all'Areopago, dicendo «Possiamo sapere qual è questa nuova dottrina che tu insegni? Infatti le cose che tu dici ci suonano strane. Vogliamo dunque sapere di che si tratta». Tutti gli ateniesi, infatti, e gli stranieri residenti ad Atene non trovavano un miglior passatempo che quello di riferire o di ascoltare le ultime novità. Allora Paolo, ritto in mezzo all'Areopago, disse «Ateniesi, sotto ogni punto di vista io vi trovo sommamente religiosi. Infatti, passando e osservando i vostri monumenti sacri, ho trovato anche un altare su cui stava scritto «Al Dio ignoto». Orbene, quello che voi venerate senza conoscerlo, io vengo ad annunciarlo a voi. Il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che in esso si trova. Egli è il Signore del cielo e della terra e non abita in templi fabbricati dagli uomini né riceve servizi dalle mani di uomo, come se avesse bisogno di qualcuno, essendo Lui che dà a tutti vita, respiro e ogni cosa. Egli, da un solo ceppo, ha fatto discendere tutte le stirpi degli uomini e le ha fatte abitare su tutta la faccia della terra, fissando a ciascuno i tempi stabiliti e i confini della loro dimora, perché cercassero Dio e, come a tastoni, si sforzassero di trovarlo, benché non sia lontano da ciascuno di noi. In Lui, infatti, viviamo, ci muoviamo e siamo, come hanno detto anche alcuni dei vostri poeti. Di Lui, infatti, noi siamo stirpe. Essendo dunque noi della stirpe di Dio, non dobbiamo pensare che la divinità sia simile a oro o ad argento o a pietra che porti l'impronta dell'arte e dell'immaginazione dell'uomo. Ma ora, passando sopra i tempi dell'ignoranza, Dio fa sapere agli uomini che tutti e dappertutto si convertano, poiché Egli ha stabilito un giorno nel quale sta per giudicare il mondo con giustizia, per mezzo di un uomo che Egli ha designato, accreditandolo di fronte a tutti col risuscitarlo da morte. Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni lo canzonarono, altri dicevano «Su questo argomento ti sentiremo ancora un'altra volta». Così Paolo se ne uscì di mezzo a loro. Ma alcuni uomini aderirono a Lui, e abbracciarono la fede. Tra essi c'era anche Dionigi la Reopagita, una donna di nome Damaris, ed altri con loro.